Cari quaddisti, eccoci, crossodromo, mi ricorderò mai come si chiama, di Gioiella, Castiglione del Lago, Emanuele Giovennelli che si è trasformato ancora una volta in team manager e che schiera una Yamaha spettacolare, guidata dal pilota Edgar Mengelist. Giova, abbiamo visto il tuo pilota disegnare traiettorie perfette in pista, il tuo mezzo, coadiuvarlo, sembrava un allenamento senza il minimo rischio, sembrava neanche che stesse correndo ma i tempi erano veramente veloci. Sì, diciamo che è stato molto bravo, più che altro oggi abbiamo provato molte gomme. Gli hai allungato il pignone di un altro dente? Gli abbiamo allungato con la moto. Eccolo lì, grande e giovane. Ha provato delle gran gomme, sono attirato al massimo, però i tempi sono buoni. Però diciamo che la gara è domani, oggi abbiamo fatto piccato dei test. Giova, abbiamo visto la tua moto copiare perfettamente il terreno, abbiamo visto i rapporti lunghi, ma abbiamo visto in salita venire su sempre lo stesso come se avessi i rapporti corti. Diciamo, la moto va bene. Va bene dire poco, Giova, ci hai messo un razzo sotto. No, è lui che, quello che conta è sempre il pilota. Lui è bravo e stiamo andando bene. Sei un grande Giova, previsioni per domani? Domani sera te lo dico. E vabbè, allora, grande Giova, ti lasciamo per le verifiche.